Le riforme necessarie per rilanciare l'innovazione tecnologica in Italia direi innanzitutto partiamo da un buon inizio, visto che per la prima volta abbiamo un Ministero dell'Innovazione, per di più guidato da una donna, quindi questo lascia ben sperare anche come modello per le giovani di questo paese. Nel mondo delle tecnologie ci sono delle grandissime opportunità, il mondo della tecnologia sta rivoluzionando di fatto tutto il mondo, quindi questa è un'opportunità da cogliere. Un'idea che mi viene così da Chito sarebbe quella di provare a defiscalizzare gli investimenti, quello di magari ridurre le tasse universitarie per le ragazze, visto che c'è un grandissimo bisogno di avere più ragazze e più donne nel mondo della tecnologia, proprio perché le caratteristiche delle decine del futuro sono molto vicine alle caratteristiche femminili.